Oggi parliamo di un settore che negli anni, anno dopo anno, è sempre cresciuto e da qua a 10 anni potrebbe anche superare i 350 miliardi di dollari di mercato. Nessuno ve ne ha parlato finora. Ciao a tutti i miei stori e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Fabio e oggi parleremo di un settore molto interessante che è rimasto un pochettino dietro le quinte, ma ultimamente sembra che comunque diversi investitori si stiano iniziando ad interessare, almeno noi lo stiamo facendo, poiché è un settore comunque di grandi dimensioni e che negli anni potrebbe portare degli ottimi rendimenti, visto che all'interno ci sono delle aziende parecchio interessanti. Infatti alla fine di questo video parleremo anche di alcune aziende facenti parte di questo settore che sarebbe bene tenere sott'occhio. Non lasciare che il tuo buonsenso venga offuscato dalle emozioni quando si parla di animali domestici e di investimenti. Spesso, quando ballano in testa l'idea di prendere un animale domestico, non teniamo in considerazione il fattore tempo. Infatti i nostri amici a quattro zampe, più zampe o meno, richiedono molte attenzioni dal momento in cui entrano a far parte della nostra vita. Impegnano quindi molto tempo, ma non solo tempo, bensì anche delle risorse. Infatti impegnano le nostre finanze. Questo gira intorno, ruota attorno ad un settore che è proprio il settore PET. Il settore PET è un settore molto vasto, con sì, alta concorrenza, ma delle grosse opportunità. Inoltre, breve parentesi che ci tenevamo a precisare, che va al di fuori degli investimenti, della finanza, delle finanze personali, azioni, e che comunque chi decide di prendere un animale domestico lo deve fare, tenendo in conto che comunque ha un peso, appunto, sia economico, sia a livello di tempo e che nel caso in cui una persona decida di fare una vacanza e non so chi lascia l'animo domestico, non può abbandonarlo, come fanno in molti, poiché è una responsabilità. E appunto si sta parlando di animali, non di oggetti. Dopo aver fatto una breve paternale, andiamo a parlare finalmente di questo settore. Per parlare bene di questo settore è importante capire le spese che un padrone dell'animale domestico deve sostenere e quindi da lì possiamo capire la vastità del settore e successivamente le varie aziende che potenziale hanno in riferimento a questi dati di cui vi parleremo. Iniziamo col dire che la maggioranza degli animali domestici può vivere per circa 10-12 anni. Prendendo ad esempio il cane, che è quindi l'animo domestico più diffuso, ha una vita media che va dai 10 ai 13 anni. Un gatto arriva anche ai 16 anni, mentre il pappagallo cenerino ad esempio raggiunge anche i 50-60 anni in cattività. Perché abbiamo parlato di questo dato, quindi della vita media di un animale? Per capire quanto un'azienda ipotetica che faccia parte di questo settore possa ad esempio speculare, tra virgolette, su un cliente, su un padrone dell'animale domestico per diversi anni. Ora andremo a vedere le varie spese a cui si va incontro nel caso in cui si adotta un animale domestico. La prima spesa qual è? Quella dell'acquisto dell'animale domestico. Che ovviamente il peso economico dell'acquisto varia a seconda dell'animale domestico preso in considerazione. In base alla razza, in base all'animale appunto che si desidera adottare. E quindi la prima spesa appunto riguarda l'acquisto. Nel caso in cui invece l'animale domestico venga regalato, si può passare direttamente alla seconda spesa, quella necessaria, ovvero legata al mantenimento. Qual è la spesa più ovvia legata al mantenimento? L'alimentazione dell'animale domestico. E in merito a questo abbiamo delle stime. Infatti, secondo l'app American Pet Products Association, in un sondaggio fatto nel 2019-2020, si è potuto constatare come il costo medio per il nutrimento di un gatto è di 5.50 dollari. Mentre quello per un cane è di 6.44 dollari. Non considerando comunque cibo premium e cani con un peso inferiore ai 25 kg. Il cibo è una spesa che va affrontata e sostenuta per i restanti anni di vita dell'animale domestico. Altre spese che si aggiungono, comunque potrebbero aggiungersi a seconda dell'animale, riguarda l'habitat, diciamo, ideale per l'animale. Quindi, ad esempio, una teca per un animale a sangue freddo, oppure un acquario. Altri extra possono guardare giocattoli, guinsalli, lettini e qualsivoglia accessorio. Anche la salute di un animale conta. È comunque un peso economico che non è irrisorio. Infatti, gli animali, essendo appunto animali, come gli umani, possono avere diversi problemi. E questi problemi, per un padrone che comunque ci tiene al suo animale, vanno risolti. Quindi, le spese mediche hanno un costo che posso garantire, che non è affatto contenuto. L'animale domestico si può ammalare e ci sono diverse visite veterinarie di routine che comunque vanno fatte. Per non parlare del costo di eventuali farmaci. Quindi, proprio in merito al lato salute, si può parlare di analisi del sangue, di, appunto, farmaci e trattamenti nel breve e lungo periodo, di pulizie dei denti, rimozioni carie, spese chirurgiche, integratori, come ad esempio cure vitaminiche e anche test diagnostici. Secondo il sondaggio Appa, l'americano medio spende 638 dollari in spese mediche per cane ogni anno. Si stima che le spese mediche per i gatti siano di circa 374 dollari all'anno, sebbene la maggior parte dei proprietari di gatti ne abbia più di uno. Questo ovviamente sempre deriva da una statistica fatta. Sempre secondo l'Appa, nel complesso, gli americani hanno speso ben 29,3 miliardi di dollari in cure veterinarie per gli animali domestici nel 2019. È con un aumento di 30,2 miliardi nel 2020. E stiamo parlando solamente degli americani, quindi pensate in tutto il mondo che tipo di business che c'è dietro. Questa tabella che vedrete qui da qualche parte vi fornisce delle indicazioni in merito al costo medio di mantenimento di un cane e un gatto secondo l'indagine nazionale. È possibile vedere come vi è un costo medio per un cane in 10 anni di circa 13.810 dollari, mentre per un gatto si scende di un po' o di parecchio a 9.080 dollari, comunque una spesa ingente. Perché sono utili questi dati? Per farci capire il mercato di riferimento, quello che è definito TAM, quindi Total Addressable Market. Prima di andare nello specifico ad analizzare delle aziende, quello che consigliamo noi è sempre di andare a vedere proprio il mercato di riferimento, quindi il TAM, per capire l'entità, la grandezza del mercato preso in considerazione. Tramite il TAM quindi è possibile capire e stimare la domanda che è un prodotto o un servizio in base a quello di cui stiamo parlando può avere e capire quanto un'azienda si può espandere al suo interno. Parlando in maniera specifica del settore PET, si parla di 207 miliardi nel 2020, nel 2021 222 miliardi stimati e per il 2028 si stima un Compounded Annual Growth Rate, ovvero il tasso composto di crescita annuale del 5,6% e quindi un TAM di 325 miliardi di dollari. A seguito di vere analisi che abbiamo fatto abbiamo deciso di prendere in considerazione tre aziende in questo settore che secondo noi hanno delle buone prospettive di crescita. Stiamo parlando di Shewee, di Bark e di Freshpet. Shewee, ticker symbol CHWY, è stata quotata per la prima volta in borsa nel giugno 2019. Dopo vari ribassi, l'ultimo ovviamente è stato quello pre-pandemico del 2020, come quasi tutte le aziende, ha in una settimana sola raddoppiato la sua cifra, il suo valore, la sua capitalizzazione. Infatti da 20 dollari è passata a oltre 40 dollari e poi ha continuato a salire fino ad arrivare comunque a picchi davvero elevati. E per elevati intendo 120 dollari ad azione. Si parla quindi di un e-commerce dedicato al settore pet ovviamente, è rivenditore di cibi, quindi alimenti e qualsiasi cosa riguardante proprio il settore pet. Ma inizialmente è nato solamente nel settore, nell'ambito food. Shewee sta avendo un'ampia crescita ed è sostanzialmente un e-commerce dedicato al settore pet, quindi l'Amazon degli animali. L'Amazon del pet, quindi Shewee, ha anche un servizio di veterinaria in maniera telematica in cui appunto è possibile fare delle consulenze con dei veterinari che fanno parte della piattaforma. In questo momento Shewee ha un prezzo per azione di 80 dollari con una capitalizzazione di 33,5 miliardi di dollari. Ovviamente io parlo al momento in cui viene registrato questo video. È un price sales di 4.38. L'azienda è già inutile e trimestre dopo trimestre sta superando le stime degli analisti. Ovviamente la crescita di Shewee come altre aziende in questo settore, ma diciamo nel mondo dell'e-commerce in generale, sono cresciute ovviamente a seguito della pandemia che ha dato quel rush, quella spinta ulteriore, ha permesso di avere una crescita più rapida nel breve periodo. Quindi la vera sfida è quella riguardante il futuro di queste aziende, quindi vedere se sono ancora all'altezza di crescere e soprattutto a capire a che ritmi potrà essere questa crescita. La seconda azienda in questione è original Bark, ticker symbol B-A-R-K. Bark è un'azienda americana che si concentra esclusivamente sui cani, quindi non è diversificata per tutti gli elementi domestici, bensì la loro nicchia riguarda solamente i cani, anche se c'è da dire che comunque il cane rappresenta, se non erro, il 65% del mercato totale. Non fornisce solamente prodotti per cani, bensì anche servizi. Infatti la cosa interessante di Bark è che loro si definiscono come il Netflix, ma del settore pet. e poiché hanno questo servizio in abbonamento su base mensile, che permette ai clienti di ricevere ogni mese un pacco, ovviamente destinato all'animale domestico del cliente. Quindi con magari giocattoli, con prodotti per la cura dei denti, prodotti riguardanti anche l'alimentazione dell'animale. Sono diversi i pacchi messi a disposizione dall'azienda, quelli che loro chiamano i Bark Box, e quindi ovviamente il cliente sceglie quello che è meglio per le sue esigenze. Nata nel 2012 e quotata in borsa da dicembre dello scorso anno tramite SPAC, Bark adesso si aggira su un prezzo di 8.20 dollari circa. Ovviamente è un'alta volatilità, quindi magari quando voi vedrete questo video sarà a 7 dollari o magari a 9 dollari. Ha una capitalizzazione attuale di 1.4 miliardi di dollari con un pre-sales di 3.77. L'azienda ancora non è in profitto, quindi non è nemmeno possibile calcolare il P.E. ratio. L'ultima azienda in questione di cui vi vogliamo parlare è Freshpet, ticker symbol FRPT. Freshpet ha un prezzo per azione attuale di 152 dollari per azione, una capitalizzazione di 6.58 miliardi di dollari e un pre-sales di 19.24, quindi da pre-sales possiamo capire che è la più costosa di tutte in questo momento. L'azienda si occupa di alimentazione per cani e gatti, ovviamente come dal nome Freshpet si parla di prodotti freschi. Il pre-sales così alto dell'azienda è dato dalle stime delle analisti che comunque riportano un'idea di crescita molto elevata nel futuro, quindi secondo gli analisti questa azienda può dare delle ottime prestazioni in termini di revenue future molto alte. E' da vedere, secondo me c'è poco margini di sicurezza in questo momento ed è abbastanza rischioso entrare nell'azienda, però bisognerebbe analizzarla meglio. Possiede diversi marchi da Dogjoy a Vital Naturals Fresh. L'azienda è stata fondata nel 2006 nel New Jersey. Facendo quindi un breve recap, una breve comparizione tra le tre, a nostro parere Freshpet è quella diciamo più rischiosa in questo momento. Inoltre diciamo che tutti hanno un'alta competizione, un'alta concorrenza, perché è un settore davvero pieno 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 di competitor e di aziende valide. Freshpet dovrebbe ad esempio competere con Purina di Nestlé, che penso che tutti i possessori di animali domestici conoscono ed è sicuramente un grosso competitor. Non è facile la sfida. Inoltre è anche vero che Freshpet è un sito molto intuitivo e appunto l'azienda si concentra proprio sul lato e-commerce, quindi non è detto che in futuro non riesca a posizionarsi meglio, soprattutto raccogliendo diversi capitali e facendo dei buoni investimenti. Spero che vi sia piaciuto questo video, spero che vi abbia interessato questo settore. A me sinceramente mi piace molto e ho investito in una di queste tre aziende, di cui vi parlerò in un prossimo video. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciarci un like ed iscrivervi al nostro canale, di seguirci su Instagram, nella pagina appunto Instagram di Solo Azioni e di lasciarci un commento qui sotto, positivo o negativo che sia, ma l'importante è che sia appunto costruttivo. Ciao a tutti investitori, al prossimo video!